innovazione solare capital soleil finalmente in commercio il primo olio protezione 40 la piacevolezza quindi degli oli secchi uniti al filtro mexeril per venire incontro anche alle pelli più sensibili gesto indispensabile dopo una giornata trascorsa al sole l'applicazione del dopo sole capital soleil un prodotto ricco in concentrato nutriente vegetale e in ialuronato di sodio per restituire con forte idratazione e freschezza alla pelle provata dal sole ideale il formato 300 ml per tutta la famiglia